Ciao a tutti, oggi vi voglio fare vedere una cosa bellissima, fa i fiocchi perfetti che sono questi, io in questi giorni mi sono divertita tantissimo, questi e questi e vengono benissimo e sto parlando di questo attrezzino qua, questa è la scatola ed è la nuova versione, è sempre della zutte, dentro c'è anche il manuale che è comunque tutto in inglese ma si capisce, poi abbiamo dentro la scatola questo che sono tutti gli accessori, io li ho già aperti, anzi adesso li tolgo perché non mi cadono e vi faccio vedere la macchina, la tressina diciamo, c'è qui dentro, questa è la sua busta e questo è l'attrezzo, è semplicissimo da usare, ora vi faccio vedere, questi servono per mettere questi che sono lisci, vedete che a differenza di questo, vedete questo c'ha soltanto da avvitare e questo c'ha anche un buloncino, questi senza il buloncino va avvitato qua, così, una volta avvitato e va anche qua da quest'altra parte ma si può tenerne anche uno solo, mettiamo il nostro supporto perché questo andrà il nostro nastro, se usate due nastri potete metterlo anche da quest'altra parte, poi qui invece serve per metterci questi con i buloncini e io ora vi faccio vedere come faccio un fiocco, possiamo farlo solo con due, prendiamo il nostro nastro, ne lasciamo fuori un pezzo da questa parte, in questo caso io dalla parte sinistra, prendiamo e facciamo girare in questo modo, vedete io ho preso i due pezzi, così sono dalla stessa parte e qui invece vedete è preso, prendiamo questo, lo portiamo dietro, poi lo riportiamo dietro da quest'altra parte e dietro da quest'altra parte, poi ancora dietro e ancora dietro, quando siamo qui che dobbiamo fare il nodo, incrociamo dietro, vedete, e portiamo questo che avevamo libero, non quello che è attaccato, sotto, lo facciamo girare da quest'altra parte che viene dietro, prendiamo questa parte che è libera e lo leghiamo, non stringiamo perché questo deve venire ben teso, quindi facciamo un po' di movimento in modo che qui, vedete, venga bene steso. Una volta legato stretto bene, ci prendiamo le forbici, tagliamo quello che non ci serve, tiriamo su ed ecco il nostro fiocchettino a 3, vedete, semplicissimo, ora vi faccio vedere un altro modo, ne facciamo uno con altri, diciamo che vogliamo farne uno grande, uno medio e uno piccolo e tutto nello stesso, nello stesso fiocco, quindi dobbiamo mettere 3 un po' sfalsati, in questo modo, così, vedete, io l'ho messi così sfalsati, ora prendo sempre il nastro, facciamo sempre nella stessa maniera, allora, questo, la parte, lo lasciamo lunga un po' e iniziamo a fare, girare il primo sempre come abbiamo detto prima, vedete così, poi portiamo questo nel secondo e lo facciamo girare e qui lo facciamo girare sempre sempre incrociato, poi prendiamo e passiamo da quest'altro lato e andiamo in questi davanti e sempre incrociato, quando siamo qua, ci riportiamo dietro nel primo che avevamo fatto e facciamo la stessa identica, sempre incrociato, ritorniamo dietro come prima, incrociamo, vedete questo, portiamo davanti quello che era libero, lo facciamo passare sotto, dietro e stringiamo, stringiamo, questo che è attaccato al nastro, vedete, lo teniamo con questa mano, facciamo un nodo, portiamo stretto quanto basta per metterci a posto, il fiocco deve rimanere teso e pian piano facciamo dei movimenti in modo che vengono tesi poi. ed ecco qua, magari ci aggiustiamo un po', se sono venuti, scusate, ecco, io per sicurezza gli faccio un altro nodo, mi raccomando che siano bene, ecco qua, e tagliamo quello in eccesso, tiriamo su, lo togliamo e abbiamo, vedete, con tre, dal più grande al mezzo e al più piccolo, vedete, poi qui in mezzo potete metterci un bottone, un fiocco, cioè una perla, quello che volete, io ho messo questo, poi vi farò anche un progettino dove faremo vedere come si mette in una card, per esempio vogliamo fare un fiocco con la base più lunga, quindi facciamo, tolgo tutto, mettiamo due qua in fondo, prendiamo un pezzo di filo, lo blocchiamo sia da una parte con questo, e viene, vedete, viene bloccato, non esce, e idem da quest'altra parte, taglio un pezzo che è questo, prendo il fiocco e faccio sempre nella stessa maniera, così, adesso lo faccio semplice, così, di così, e così, lo giro, prendo anche quell'altro che avevo messo dritto, questo, vedete, insieme, me lo porto dietro, lego, come ho fatto con l'altro, tiro questo, tiro questo, e tiro su, e questo, vedete, in pratica serve, se noi vogliamo mettere il fiocco con tutta la sua lunghezza in una card, e viene così, e poi ci sono tanti altri modi, poi vi farò vedere anche, faremo dei progettini insieme, io, questo è per farvi vedere come funziona questo attrezzino qui, io l'avevo provato a fare a mano una specie, ma mi si muovevano tutti, mi venivano male, malissimo, questi vengono perfetti, una volta che abbiamo finito tutto il lavoro, possiamo smontare tutti i pezzi, questi li mettiamo dentro e le nostre asti di ferro le mettiamo negli appositi spazi, ce ne sono 4 di qua e 4 di qua, la nostra chiavetta va qui, sempre nel suo spazio, così abbiamo tutto in ordine, queste le altre cose le ho messe dentro, una volta chiuso tutto mettiamo dentro anche questo nella sua busta, ed ecco qua che abbiamo tutto a posto, bene, con questo io ho finito il video, spero di essere stata chiara, come al solito se avete qualche dubbio mandatemi un'email o scrivetemi nel box in fondo, questa mi è stata mandata da Bricotutto e vi metterò anche questo il link per chi fosse interessato a comprarla, ne vale la pena veramente perché io in questi giorni, vabbè a me piacciono i fiocchi, però in questi giorni ne ho fatti talmente tanti e si fa prestissimo e vengono perfetti, con questo vi saluto, vi abbraccio e al prossimo video, ciao! 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 Ciao!